Però ragazzi cosa ci manca? Ci manca la canna da zucchero Poi vabbè ho realizzato le porte eccetera eccetera E' una farm di canne da zucchero non un macello ecco E come diavolo è finito un porco lì dentro se c'è la recinzione Vabbè non me lo spiego E questo sarà tutto ciò che ci servirà Bella ragazzi come vi sarebbe rinnovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su minecraft Questa volta con l'episodio numero 49 Perfetto ragazzi siamo qua con appunto l'episodio numero 49 Nello scorso episodio E comunque sia ragazzi io vi avevo accennato che volevo appunto un libro con infiniti Sull'arco E come potete ben notare da questo piccolino buchino qua dove c'è il mob spawner Sono riuscito a farmi Leggete un po' che il livello 76 Ci ho messo praticamente 4 giorni di fila messo lì a dare colpi Però sono arrivato al livello 76 E sapete quanti libri ci craftiamo con il livello 76? Però ragazzi cosa ci manca? Ci manca la canna da zucchero Per appunto fare la carta per creare i libri ed ingandarli Quindi ragazzi come avrete già letto dal titolo Adesso andremo a fare una farm di canne da zucchero Al 100% automatica Avete proprio capito bene 100% e quando dico 100% è 100% Però prima volevo farvi vedere un attimo qua lo stadio che ho giusto sistemato qualcosina Insomma non ho sistemato chissà che ho solamente messo appunto qua Il centro campo l'ho messo di quarzo Ho fatto tutto giusto Questo qui appunto da dove c'entra la gente per andarsi a sedere Come vedete ci ho messo anche questi vetri che non sono male Devo dire che separano molto ma molto bene Hanno un gran viewing con la forma del campo Poi vabbè ho realizzato le porte eccetera eccetera Qui ho fatto quello da dove escono le squadre Comunque sia ragazzi andiamo a fare quello che dobbiamo fare Ovvero la nostra farm di canne da zucchero Ho già scelto dove farla Ho già spianato tutto Ho preparato tutti i materiali prima Anche se non si sa mai un po' di redstone me la prendo Non va male Mi sono anche farmato un... Uno stacchino e qualcosa di torce di redstone Comunque sia guardate Tutta questa sarà la dimensione Ovviamente si può fare di qualsiasi dimensione si vuole E questo sarà tutto ciò che ci servirà Un baule Due gettatori Redstone Delle tramogge Dei pistoni Sensore di luce Dei comparatori di redstone Un secchio d'acqua Pannelli di vetro E la canna da zucchero appunto E porca troia alla fine mi sono dimenticato la sabbia Allora ragazzi come verrà realizzata questa farm? Allora innanzitutto bisogna mettere Un blocco qua Poi un altro blocco qua E qua ovviamente ci andrà L'acqua E qua ci andranno le varie tramogge Adesso ragazzi Piazziamo tutta questa sabbia Perché la pecora si è messa in mezzo Allora ragazzi una volta fatto ciò Prendiamo un attimo Le tramogge Più il baule Oddio spero 55 ci bastino Se no dovrò andare a craftarne delle altre Allora ragazzi ovviamente Più grande sarà Anzi più lunga sarà La zona appunto di sabbia o di terra La potete fare come volete Va in base alla vostra preferenza Io ho preferito la sabbia Sarà più efficiente Allora ragazzi adesso passiamo qua appunto Alle tramogge Che dobbiamo metterle Così in questa maniera E se non sapete come metterle così Basta che tenete premuto shift E poi cliccate Con il tasto destro appunto All'invinito Per appunto attaccarle Io spero ci bastino Perché per fare 50 tramogge Già ho speso un botto di ferro Quindi se non bastano So cazzi Ok ragazzi ho messo le tramogge E perfetto Mi raccomando Cosa che non dovete assolutamente Dimenticare Le tramogge devono essere Rivolte verso qua Appunto verso la cassa Così in questa maniera Dopodiché passiamo a fare Il contorno ragazzi Che ovviamente Lo faccio in questo momento In pietra Poi magari Lo rifaccio in un altro materiale Ok ragazzi adesso Basta prendere Comunque sia dei secchi Andiamo a prendere immediatamente Dei secchi Mi raccomando Mettetelo Ogni blocco Con secchio d'acqua Ok ragazzi Prima fila finita Adesso iniziamo la seconda Ok ragazzi Ho finito tutte le file Adesso andiamo a dormire Perché è notte Ok perfetto ragazzi Depositiamo tutti Sti maledetti Secchi Che ne ho un botto Chi c'ha Candamè Guardalo Adesso ragazzi Andiamo a chiudere Tutta l'acqua qua Perché altrimenti Magari la canna da zucchero Quando viene spaccata Dal pistone Cade dentro l'acqua E quindi Non prendiamo La canna da zucchero E ciò potrebbe essere Molto fastidioso Ok ragazzi Abbiamo coperto Tutta l'acqua Adesso passiamo Al passaggio successivo Io ovviamente Ragazzi sto seguendo Un tutorial Ben preciso E comunque sia Come mi dice il tutorial E adesso È il turno Dei nostri Carissimi pistoni Che sinceramente Non so se basteranno Perché devo metterne Due per fila E adesso devo mettere In un altro piano Ah comunque Mi raccomando Non mettete qua Il coso Il pistone Perché è inutile Perché questa parte Ci sarà un muro Diciamo Ok ragazzi Mi sono finiti Nuovamente Tutti i pistoni E me ne servono Diciamo Credo Altri 57 pistoni Quindi andiamo A craftarli Ok ragazzi Abbiamo finito il ferro E sono usciti fuori Solamente 44 Pistoni Io mi auguro Vivamente Che bastino Che poi il bello È che il letto Per dormire Ce l'ho là E quella zona A quest'ora Sarà invasa Di mob Fino al collo Vi state chiedendo Il perché Indelligentemente Non ho messo Neanche una torcia Ok ragazzi Qua ci abbiamo Che cos'è Mi ha Qualcuno Mi ha tirato Una pozione Dov'è Dov'è La maledettissima Scheletra Ok ragazzi Si è fatto giorno Meno male Guardate C'era un enderman Ma quello Non mi dava problemi Dov'era la strega Eccola Eccola La bruttissima Disgraziata Maledetta Muori 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 E ok Abbiamo finito Ok ragazzi Passo successivo Mettere Il pannello Di vetro Voi direte Dove va messo Il pannello Di vetro Il pannello Di vetro Ragazzi Lo dobbiamo mettere Esattamente Sulle tramoge Ovviamente Sempre per fissare Qualcosa Sulla tramoge A tenere Premuto Il tasto shift E se vi state chiedendo A cosa serve Questo vetro Semplicemente Che quando i pistoni Andranno a distruggere Le canne da zucchero Sbatteranno Contro il vetro E quindi finiranno Dentro la tramogia Ok ragazzi Adesso dobbiamo Passare al tetto Tetto che già Dovete decidere Di che materiale Di che materiale farlo Speriamo Speriamo Come sempre Che bastino Ovviamente E andiamo A coprire Solamente Questa parte Qua Ovviamente Il nostro carissimo Sole Si accinge Nuovamente A scendere E come diavolo E finito Un borco Lì dentro Se c'è La recinzione Vabbè Non me lo spiego E boom E finiamo Il tetto Adesso ragazzi Prendiamo Ciò che ci serve Per appunto Il campo Di redstone Adesso Ragazzi Dall'altra parte Quindi da questa parte Mettiamo Il comparatore Di luce Alla fine Mi raccomando Dalla parte opposta Da dove c'è la cassa Se no Tutto ciò Non funziona Poi andiamo A mettere Due blocchi Qua E mettiamo Due pezzettini Di redstone Sopra Mettiamo Un gettatore Di qua Che guarda Verso Questa parte Verso La parte esterna Diciamo E un altro Sempre di qua Che guarda Sempre verso là Se magari Riuscissi a metterlo Dopodiché Le tramogge Ragazzi Le tramogge Mi raccomando Sempre tenere Premuto shift E metterle Che riguardano Oddio Che riguardano Che guardano Così Verso Appunto Il gettatore Mettetelo Così E funzionerà Il tutto Ovviamente Fatelo Anche da questa parte Una volta Fatto ciò Mettete sotto Di un blocco Qua Appunto E sopra Ci dovete mettere Questo cosino Qua Però Messo così Che deve guardare Verso l'opper Ovviamente Fatelo Anche da quest'altro Lato Ok Perfetto Una volta Fatto ciò Fate una cosa Di questo tipo Create una cosa Del genere Ovviamente Anche sempre Dall'altro lato Pure E andiamo a mettere Una torcia di redstone Che guarda Verso comunque La parte Dove appunto Finisce la farm Una volta Fatto ciò Mi raccomando Fate una cosa Di questo tipo E lasciate un blocco Di spazio Tra la torcia E questo blocco E questo blocco E create Una lunga fila Di questi blocchi Messi così Che ovviamente Arrivano fino a qua Fino all'ultima fila Di pistoni Stessa cosa da fare Anche dall'altro lato E sopra Ci andate a mettere La redstone E una volta Fatto ciò Mettete Queste cosine Qua Così In questa maniera Quindi mettete Torce di redstone Qua Perché però Qua Non si spegne Ok ragazzi Problema risolto Ho risolto tutto Praticamente basta Che mettete Dove appunto Si spegne La redstone Mettete un'altra Torcia In questa maniera Sembra di un blocco Di distanza La piazzate lì Create un billarone Fate quel che volete E comunque sia Le torce saranno Nuovamente spende Quelle che andrete a mettere Ok ragazzi Questa fila finita Adesso lo dobbiamo fare Anche dall'altro lato E ok ragazzi Tutte le torce Sono spende Abbiamo finito Adesso tutto È estremamente Funzionante Ah ragazzi Una cosa che non vi dovete Dimenticare Assolutamente Che però io Mi stavo dimenticando A dirvela All'interno Dei gettatori Mettete un pezzo Di qualsiasi cosa Può essere Un pezzettino Di roccia Può essere Della terra Può essere Un pezzettino Di quercia Qualsiasi cosa L'importante È che ci sia Almeno una cosa All'interno Ok ragazzi Qui è finita Adesso dobbiamo Semplicemente Mettere le canne Da zucchero E se questa pecora Non si leva Di qua Viene pestata Dai pistoni E muore Quindi se ne va Adia grazie È una farm Di canne da zucchero Non un macello Ecco Ok ragazzi A me Sono finite Però poi Rientrerò Per riempire Anche questi pezzi qua Ovviamente Il design È un po' bruttino Però Tutto questo Ragazzi Io lo andrò A richiudere Dentro una scatolina Per farlo sembrare Molto più carino E comunque Se vi state chiedendo Quando si accenderanno I pistoni I pistoni Praticamente Si accenderanno Grazie a questo Pannellino qua Perché come potete vedere Per farvi un esempio Adesso praticamente È messo Imbostato al giorno No Di notte Questo qui Si spegne E ovviamente Non succederà Un cazzo Ma di giorno Quando sorgerà L'alba Questo cosa Si accenderà E darà un impulso A tutta la corsia Che ovviamente Comprimeranno Le canne da zucchero Appunto Portandole Là dentro Direttamente Alla cesta Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Ovviamente Questo qui Non prendetelo Come video tutorial Iper mega professionale Perché appunto Non lo è Il link del tutorial Originale Lo trovate qua sotto In descrizione Quindi magari Potrebbe essere Anche che c'è Qualche problemino Che devo ancora risolvere Inoltre Fatemi sapere Cosa costruire Cosa ne pensate Di questa farm Di canne da zucchero Appunto qua sotto Nei commenti Quindi Se volete passare Dalla pagina di facebook E dal profilo instagram E trovate il link Sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Per nuovi video Questa dove dice tutto Bella raga Perfetto Si vola Vai 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 No Sulle bancarelle Comunque abbiamo perso Un'altra posizione ancora Adesso vai giù qua Mamma mia Gli alberi Mamma mia Bello sto pezzo qua Con Ritornano i container Che diavolo è Ok ragazzi Siamo qua nel wall ride Comunque si Ho visto i container Ressorritore Ressorritore Grazie a tutti.